Ti-tu-ti-tu-tu-ti Splendidamente adagiata sulla costa occidentale della Norvegia, Bergen è una fucina di curiosità. Oggi è la seconda città della Norvegia, ma nel XIX secolo Bergen deteneva il record della più grande città europea costruita in legno. Era la capitale della Norvegia e per secoli rimase la più grande città del paese, fino ad essere scalzata da Oslo nel decennio del 1830. Le vedute della città dal Monte Floyen sono spettacolari, ma la funicolare Floybanen, che ogni anno trasporta oltre un milione di passeggeri, è l'unica funicolare di tutta la Scandinavia. Per secoli Bergen è stata la capitale europea del merluzzo e proprio il figlio di un mercante di merluzzo di Bergen divenne il più noto compositore norvegese, Edvard Grieg. Ogni dicembre Bergen raggiunge l'apice della creatività, costruendo la bizzarra Ginger Snap City, la più grande città al mondo fatta di panni zenzero.